Mi chiamo Vannoni Dilvo, ho quasi 70 anni e all'epoca dei fatti, cioè tra la primavera 74 e il primavera 75, terminavo un'esperienza nel privato e ad agosto del 74 sono entrato in quello che allora si chiamava Corpo Vigili Urbani di Savona, poi diventata Polizia Municipale e successivamente, attualmente Polizia Locale. Dall'agosto del 74 ci fu un corso di tre mesi al comando quando entrai nel corpo e quindi facevamo l'attività di formazione, poi cominciamo a fare servizio esterno, quindi più o meno da prima di dicembre del 74 anche nella duplice veste di appartenente al corpo dei Vigili Urbani, quindi servizio a piedi o di pattuglia nelle ore diciamo diurne, nelle ore notturne. e per quanto ricordo che in città certamente c'era fermento, così come ritornando al primo periodo, cioè quando ancora ero un lavoratore nel privato, c'era le fornaci, c'era, diciamo che riferendomi proprio nello specifico alle fornaci, perché poi me la ricordo meglio come zona, come area, la paura c'era indubbiamente, è un elemento umano, ma cercava di essere limitata, mitigata con una reazione che io ritengo giusta, cioè tutti i partiti, le società di mutuo soccorso, i circoli, ogni soggetto decise di rimanere quanto più aperto, proprio per dare una risposta, proprio un segnale di reazione, di contrasto a questa che fu una strategia della tensione, una città non molto grossa, per di più la tensione era ancora più evidente, era ancora più palpabile, anche perché ci furono dei morti, ci furono feriti, la cosa colpi molto. Contestualizzando il periodo e raffrontandolo ad oggi, nel bene e nel male, c'è proprio un divario notevole enorme, in allora non soltanto le fornaci, tutti i quartieri savonesi, quindi tutta la città di Savona, aveva una propria sezione del Partito Comunista, del circolo della Federazione Giovanile, le grandi fabbriche, mi riferisco all'Ital Sider, al porto, ai ferrovieri, avevano una propria sezione, laddove non c'era una sezione, tipo i quartieri Campanella c'era una forte, o alla Scevrono c'era una forte cellula, c'era, e tornando sul territorio, persino nei quartieri più piccoli, mi ricordo la sezione Tambuscio, quindi andiamo al Santuario, andiamo a Marmorassi, a Santa Galetto, quindi posti anche piccoli, anche decentrati, avevano la loro organizzazione, se si consideri poi che il ruolo che è importante fu il ruolo della Camera del Lavoro e anche degli altri due centrali sindacali, Cislewil, dell'Ampi, oggi purtroppo molti partigiani sono deceduti, sono morti proprio con ragioni di età, in allora invece erano attivi cinquantenni, sessantenni, settantenni, quindi persone che seppero dare il loro contributo come Ampi, FWL, Ampia che era l'associazione dei perseguitati politici antifascisti, l'Unione Donne, la rete delle società di mutuo soccorso, ma io voglio anche inserire sicuramente gli oratori, le squadre sportive, di qualunque genere, ricordo lo Speranza, il Priamare, il gruppo sportivo Fornaci, parlando di Savona e quindi movimenti che hanno avuto e hanno tuttora una loro storia particolare, quindi anche la lotta comunista, il movimento anarchico, qui noi abbiamo avuto obiettivamente due elementi di spicco, Arrico Cervetto per quanto riguarda la lotta comunista e Umberto Marzocchi per gli anarchici, a significare che comunque c'è un radicamento storico di queste organizzazioni. Le società di mutuo soccorso fecero la parte del Leone dal punto di vista logistico, perché la sede era sempre aperta, così come erano anche le varie sezioni e la Camera del Lavoro, lì ci si ritrovava per poter organizzare anche i turni, per poter partire, tornare e un ruolo importante lo ebbero all'interno delle società di mutuo soccorso, all'interno del territorio i nascenti comitati di quartiere, perché furono poi un allargamento anche del consenso della mobilitazione. Io ricordo che lì ci si ritrovava, comprese le Fornaci, e parlo di quello perché era la mia, dove abitavo, dove svolgeva attività politica, lì ci si ritrovava con più componenti, da quella comunista, quella socialista, quella democristiana, repubblicana, liberale e diciamo con un accordo alto anche come contenuti per quanto riguarda la vivibilità del quartiere e in questo caso come reazione, come contrasto a queste provocazioni, a questa strategia della tensione. Mi ha fatto molto piacere di vedere un libro dove, compianto Mario Marchioni, dirigente della società di mutuo soccorso Fornaci, mi cita immeritatamente diciamo, perché ho sempre svolto un'attività modesta alla base, come tra coloro che fecero la proposta per organizzare quelle che poi furono, io preferisco chiamarle gruppi di vigilanza democratica, popolare, perché le ronde sono di padana memoria, fortunatamente abortite. Queste invece furono una giusta via di mezzo tra la forma spontanea, perché molti veramente si affacciavano alla società di mutuo soccorso, alla sezione del partito, dico del partito perché alle fornaci, la forma organizzata, i resms, ampi, i vari gruppi che ruotavano intorno, gravitavano intorno alla società di mutuo soccorso e la sezione del partito, Pippo Rebagliati e del circolo Ocimin FIGC. Quindi si facevano riferimento a queste due sedi e indubbiamente il comitato di quartiere e le forze organizzate cercavano di dare una risposta equilibrata, una risposta calma a questa organizzazione, a questi gruppi di vigilanza. Venivano dati, questo lo ricordo anche in sezione, delle virgolette direttive sul assolutamente non travalicare quelli che erano i compiti di cittadini, quindi nessuno di noi si poteva permettere di chiedere documenti, di insistere, di domandare perché uno passava di lì o passava da un'altra parte e quindi questo era già, limitava già in maniera netta, in maniera comunque giusta secondo me, ragionata i compiti di questi gruppi. I gruppi normalmente erano, entrando nel dettaglio, di 3-4 persone e prendevano un pochettino, fortunatamente le fornaci non sono un quartiere molto vasto tipo Villa Piana o che ha anche la parte in salita in via Mignone, oppure Piazza Le Moroni o piuttosto che Lavagnola, è abbastanza lungo ma tutto sommato si va dalla Crocetta a San Michele passando dalla linea della ferrovia, quindi via Saredo e diciamo che si faceva tranquillamente nel giro di una notte, di una serata più volte si faceva. Dico serata e notte perché di giorno le attività erano aperte, devo dire che in allora notevole era l'impegno della Polizia Locale, della Polizia di Stato, Carabinieri, Finanza, si vedevano spesso passare, transitare e devo dire che ricordo anche a loro quando avevamo bisogno di segnalare loro una targa o una persona che ci sembrava nuova del quartiere o che magari si era fermata un po' di più o a osservare qualche cosa tipo la società o la sezione, abbiamo sempre avuto delle risposte pazienti, collaborative, quindi questo lo ricordo con piacere, dovrebbe essere così un rapporto democratico e corretto tra organi di Polizia e cittadinanza. Se mi è permesso volevo dire due cose ancora su queste ronde, ne ho un ricordo bello anche perché si riferisce a un'età più giovanile e queste ronde furono anche l'occasione, che io ronde o gruppi, furono anche l'occasione poi di una conoscenza di persone che invece si conoscevano, sì ci conoscevamo tutti nel quartiere Fornaci, ma ci si conosceva ciao, buongiorno, buongiorno, ciao, ciao in maniera superficiale. In questa maniera invece ritrovandomi anziché con un compagno, permettetemi l'appellativo, della sezione Pippo Rebagliati, anche perché io all'epoca ero un'occasione del circolo con un'altra persona che invece era di tutt'altra estrazione e che conoscevo poco, poi si finiva andiamoci del tuo, andiamo a prendere un caffè, andiamo, quindi a iniziare un'amicizia o a rinsaldarla nei casi di amicizie già consolidate, già iniziate. Mi ricordo che avevamo le chiavi della sezione Pippo Rebagliati, anche perché io all'epoca ero alla fine del mio mandato diciamo di segretario del circolo FIGC ed ero nella segreteria della sezione del partito e ovviamente la sezione, la società non c'erano le tre di notte, però sino a mezzanotte e oltre tante volte era aperta, per cui in caso anche di telefonate, anche di prendere un caffè, era un caffè, una birretta o anche un bicchierino di vino, era aperta, quindi era anche un luogo di ritrovo. Vorrei ricordare anche un aspetto tipico delle Fornaci perché era un centro che radunava, come le mosche attirava un po' tutti quanti, il mitico Bar Riviera. Bar Riviera era un posto dove i panini erano eccezionali e tante volte, l'età era un'altra, verso mezzanotte si finiva con mangiare un panino, con prendere una birretta, prendere in questo posto che appunto è stato anche celebrato perché anche meritatamente. Se posso continuare sul discorso di questi gruppi, vorrei anche contestualizzare il tipo di attività, noi oggi giriamo con uno smartphone mediante il quale possiamo fotografare qualunque cosa, una targa, una persona, magari senza farci vedere più di tanto, però in allora le nostre armi, tra virgolette, erano quelle della torcia, neanche quelle normali che ogni tanto ballavano come luce, quindi erano un po' imperfette, un block notice e una penna e quindi non… e l'unica cosa di positivo e credo che sia una cosa anche abbastanza interessante era il controllo delle targhe, molte volte passava una macchina che non conoscevamo, segnalavamo, cioè certamente non la macchina che passava due volte, ma la macchina che… eravamo facilitati a differenza di oggi perché le targhe in allora erano progressive, SV 300.400, oggi invece sono alfanumeriche quindi non si sa da quale provincia vengano, invece lì, allora quando vedevamo Catania o Udine, non sbagliarci, a Osta o Cosenza, potevamo pensare che era una in trasferta, come potevamo pensare che cosa è chissà chi e lo segnalavamo, questo qui era un po' virgolette un vantaggio rispetto ad oggi, quando oggi ci sono dei ben altri controlli, possibilità, ho fatto l'esempio dello smartphone, ricordo che il corso cominciò ad agosto perché entrai proprio il giorno del mio compleanno nei vigili urbani e contando tre mesi di corso, poi i primi, diciamo che con la fine dell'anno, inizi del 1975, mi ritrovai come altri di servizio esterno, affiancato da colleghi più anziani, di notte ovviamente in pattuglia in macchina e devo dire che da sempre il corpo dei vigili urbani, quindi polizie municipali e oggi polizie locali, c'è sempre stato con i corpi di polizia dello Stato, con vigili del fuoco, con protezione civile, istituzione certamente recente e gli organi di soccorso, c'è sempre stata una sinergia ottima, diciamo completa, qualche rivalità, però tutto sommato come giusto che sia, che se c'è un incidente, se uno fa in una maniera e l'altro fa nell'altra, o una deviazione, se uno manda a destra, l'altro manda a sinistra, sarebbe quantomeno incomprensibile. La presenza di militanti attivisti, comunisti all'interno del corpo dei vigili urbani, era assolutamente normale all'epoca, quando il Partito Comunista esisteva, anche perché le polizie municipali da sempre sono e tuttora un corpo ad ordinamento locale e civile, per cui c'è l'assoluta libertà di aderire a partiti e a sindacati e devo dire che è vero, molti associano la divisa a tentazioni autoritarie, se non di destra, devo dire che nei vigili urbani di Savone, non so quelli di Latina o di Udine, però forte era la presenza comunista, avevamo una cellula, c'era una forte sezione dei dipendenti comunali e avevamo una forte cellula comunista, mi ricordo molti compagni che svolgevano attività o tramite il sindacato, ovviamente la CGL o direttamente del partito. Qua vicino avevamo il brigadiere Tissode, tanto per dire che era un compagno che tra l'altro partecipò attivamente a queste ronde e ci dividevamo anche con Morari, nel senso che quando eravamo in servizio svolgevamo la nostra attività nella maniera più professionale e diligente, come è giusto che fosse, quando eravamo fuori servizio svolgevamoci, vero è che era la cosa assolutamente distaccata, quando facevo parte di questi gruppetti di sorveglianza, di vigilanza democratica, popolare, chiamiamola un po' come vogliamo, ero come gli altri, avevo la mia pila, come dicevo prima, le mie armi che erano queste, cioè il blocnotes e la penna, mentre in servizio avevo ben altri tipi di armi, quindi era una cosa assolutamente… ma non c'era assolutamente alcuna contraddizione, anzi molti di noi contribuirono proprio nella duplice veste, c'erano due lavori praticamente. Sempre riferito a quel periodo, ormai siamo nel 75 perché manifestazioni ce ne furono diverse, ci furono risposte anche spontanee, se non ricordo male, fuori dalle fabbriche, con striscioni, con picchetti e quant'altro e ci fu poi la grossa manifestazione, venne stimata, se non ricordo male, intorno alle 30 mila persone, con il segretario della CISL. Ecco, io lì la posso raccontare, rivivere nella doppia veste perché in quei giorni ovviamente le sezioni erano all'opera sia per rondeggiare nel quartiere, sia per preparare manifesti, volantini, insomma passaparola, visto che non c'erano Facebook, Whatsapp e quant'altro, per poter diffondere al meglio, il più possibile, questa manifestazione. E io proprio quel giorno, destino vuole, invece fui di servizio, ma fu una manifestazione come tutte a Savona, assolutamente pacifica, democratica, molto partecipata e anche molto decisa, poi nonostante gli esiti praticamente nulli di tutta questa vicenda, almeno dal punto di vista giudiziario. Non vorrei essere smentito, magari domani, però ricordo che non ci fu militato. E comunque fu anche, come dire, esaltante per noi, anche in servizio, perché contribuimo, insomma, con le nostre macchine, con il servizio dei motociclisti, a non organizzare, a disciplinare bene il traffico di questa manifestazione, per alto enorme, quindi per Savona, perché 30 mila, una città che allora ne aveva sui 70 mila, ora siamo a 60 mila, vuol dire un'altra mezza città che si riempie, in centro, però dico non ci fu, e non ci furono assolutamente provocazione di gente, magari, che so io, arrabbiata, comunque un certo blocco del traffico ci fu, fu un ottimo ricordo, anche dal punto di vista del servizio. Io sarebbe un discorso molto ampio, perché ho iniziato dicendo che c'è un divario tra allora e adesso dal punto di vista della presenza capillare dei partiti, dei movimenti, dei sindacati, facendo la fotografia attuale, ed è forse la ragione, da questo punto a un certo punto di vista, di questa amnesia, una parte di questa colpa, di questa responsabilità. Noi oggi ci ritroviamo alla Camera del Lavoro, ci ritroviamo alcuni circoli, alcune associazioni, le società di mutuo soccorso, ma sono nient'altro che un palido ricordo rispetto alla capillarità di una volta. Questo sta a significare che la forza anche propulsiva, ideale, organizzativa è assolutamente minima rispetto a quella di una volta, per cui anche il potere organizzare iniziative che sollecitino il ricordo di quegli anni, non dico che sia impensabile, ma insomma, guardate, non lo voglio dire per vantare me o altri compagni delle fornaci. L'anno scorso abbiamo fatto un'iniziativa sulla sezione Pippo Rebagliati e sul circolo da FIGC, un'iniziativa della quale la gente aveva bisogno, perché parteciparono oltre 120 persone, ci fu poi lo scoprimento di tre targhe, ma non lo dico per farmi bello me o altri che mi hanno aiutato, lo dico perché da una parte ci sarebbe il bisogno della gente di conoscere, di ricordare, dicendo forse non c'è più la forza e poi dal punto di vista, questa è una delle ragioni, una, poi certamente dal punto di vista delle responsabilità, diciamo che come accennavo prima, il tutto è finito, come si suol dire, in una bolla di sapone, così come tante altre vicende di terrorismo, certo la cosa qui colpisce ancora di più perché si parla di Savona, ma se si pensa all'Italicus, a Piazza Fontana, per la quale abbiamo sempre l'anno scorso fatto un'altra iniziativa ottima, ci si rende conto che la strategia della tensione ha dato i suoi frutti a chi l'ha attuata e purtroppo chi ha avuto le conseguenze non ha avuto quella giustizia che ci si auspicava.